La Guardia Svizzera Pontificia ha una nuova sede della centrale operativa, cuore di tutti i controlli di sicurezza che spettano agli alabardieri del Papa e alla sua realizzazione hanno contribuito due fondazioni elvetiche nate per offrire sostegno economico, materiale e tecnico all'esercito più piccolo del mondo. Incontrando i benefattori delle fondazioni, Papa Francesco li ha ringraziati per il sostegno a favore dei giovani svizzeri che decidono di spendere alcuni anni di vita al servizio della Chiesa e della Santa Sede, sottolineando che, nella loro attività, esprimono lo spirito comunitario e solidale tipico della presenza dei cattolici nella società. Tale attesciamento trova la sua radice nel richiamo evangelico dell'amore al prossimo e favorisce il superamento delle differenze e delle tensioni sociali tra i diversi gruppi. Pertanto, mediante la vostra opera, voi testimoniate concretamente gli ideali evangelici, e nel tessuto sociale svicero siete esempio di fraternità e di condivisione.